Ci sono forze della natura e forze della natura. C'è stata Vaya, la tempesta che ha devastato i boschi del Trentino. È pericoloso star qua. E poi ci sono i suoi boscaioli, che dimostreranno a modo loro che tutto si crea, nulla si distrugge, ma soprattutto si trasforma. È un lavoro veramente pesante. Veloce che fa freddo! L'ho presa come sfida. Undercut, l'oro di legno. In prima TV assoluta da martedì 11 giugno alle 22.20 su D-Max, canale 52. Grazie.